Ci ha raggiunto qui negli studi di Codacons TV Tony Di Amicis, il direttore della fondazione Campagna Amica, parliamo di agricoltura italiana, allora ci faccia assaggiare un po' questo progetto di Campagna Amica, in cosa consiste? Campagna Amica possiamo dire che è una piccola rivelazione, una piccola novità nel panorama agricolo italiano, ma anche una piccola novità nella società italiana. Noi abbiamo costituito in Italia una rete di produttori in vendita diretta, produttori agricoli che vendono proprio cibo, propri prodotti agricoli che quindi controllano, di cui conoscono la storia, di cui conoscono tutte le caratteristiche. Questa rete è una rete nazionale e ha dato vita a un circuito di mercati, soprattutto di farmer's market, così come ne esistono tantissimi in America, se ne contano più di 7 mila, in Italia siamo riusciti ad averne più di mille di Campagna Amica, sono dei mercati dove è possibile fare una spesa diversa dalla solida spesa. Quali sono le differenze di questi mercati dagli altri? La differenza è grossa perché da noi si trova il prodotto agricolo italiano, l'abbiamo definito in questo modo, si trova davvero il prodotto autentico, quello del contadino, quello che ha un forte legame con il territorio, quello che ha una sua storia e una sua origine, quindi i nostri formaggi, i nostri prosciutti, i nostri salami, le nostre verdure, i nostri oli, i nostri vini, hanno una caratteristica molto originale rispetto a quello che noi troviamo normalmente al supermercato o nel droghiere sotto casa e cioè che hanno una forte corrispondenza tra l'aspettativa del consumatore e il prodotto, cioè da noi se si compra un prosciutto e si dice che è di montagna, si riscontra a casa che è davvero di montagna, se il pollo che si compra da noi si dice che è ruspante, si torna a casa e si scopre che effettivamente è ruspante e questa è una novità importante nel nostro panorama alimentare. C'è quindi una trasparenza su tutto, sulla filiera, come fate a garantirla? Con i produttori, sono i produttori stessi che danno vita al mercato e quindi sono loro che garantiscono il prodotto che vendono, perché sono loro che l'hanno fatto e sono loro che ci mettono la faccia, noi diciamo che con Campagna Amica si vende un prodotto firmato con il volto del produttore e questa è una garanzia che al supermercato non si può riscontrare perché si compra un prodotto confezionato che sta su uno scaffale anonimo e non si può riscontrare nemmeno con l'acquisto del droghiere sotto casa, perché il droghiere sotto casa è un rivenditore, quindi si deve fidare di chi gli ha fornito il prodotto, a volte va bene ma molte volte non va bene e quindi c'è questa differenza. Da noi invece c'è l'agricoltore che l'ha coltivato, che l'ha allevato e quindi c'è questo tipo di garanzia ed è lo stesso agricoltore che si ritrova magari la settimana dopo quando si torna a fare la spesa. Sappiamo che le colonne portanti di questa campagna, di questo progetto sono quattro, quali sono? Beh diciamo l'aspetto fondamentale è l'origine, noi tutti i prodotti che mettiamo in campo sono agricoli e italiani, quindi sono tutti di origine italiana, quindi se si compra una bottiglia di olio non ci può essere la sorpresa di arrivare a casa e scoprire che è il solito olio industriale, magari fatto con le olive che vengono dalla Tunisia, magari con un'acidità che è stata rettificata chimicamente, si scopre che effettivamente è un prodotto italiano ed è precisamente di quel territorio su cui il produttore l'ha coltivato, quindi la prima cosa è l'origine italiana, la seconda cosa di campagna mica è la presenza del produttore agricolo, la fisicità è la garanzia che si riscontra. Il terzo aspetto è legato ai controlli, cioè il nostro sistema è un sistema che si avvale di un marchio che è quello di Campagna Mica, il nostro giallo che ormai è abbastanza riconoscibile in tutta Italia ed è legato a una serie di norme, di prescrizioni, di regolamenti che facciamo sottoscrivere a tutte le aziende che si accreditano e su queste regole facciamo dei controlli, dei controlli che sono legati a quelli del produttore, cioè il rispetto di tutte le normative di legge, sono degli controlli che sono legati agli impegni che il produttore ha con Campagna Mica, quindi sul piano etico, agronomico e produttivo e poi sono degli impegni che facciamo rispettare tramite due livelli di controllo esterno, uno di una società che si chiama Impresa Verde e l'altra di una società terza, CSQA che fa controllare i controllori, quindi un sistema il più possibile garantito, poi ovviamente rischio zero non esiste in nessun ambito, ma comunque un sistema molto serio che deve tutelare i consumatori, ma deve anche tutelare tutti gli agricoltori onesti. Quindi se io sono un agricoltore come faccio ad aderire a Campagna Mica? Bisogna fare un accredito, bisogna candidarsi, entrare nella rete di Campagna Mica, c'è un procedimento sul nostro sito www.campagnamica.it si trovano tutte le istruzioni, si fa la domanda, la fondazione verifica se ci sono tutti i requisiti, per essere accreditato alla nostra rete bisogna essere prima di tutto degli agricoltori professionali, quindi dotati di iscrizione alla Cammerata di Commercio, partita IVA, eccetera, quindi stare in regola sul piano amministrativo, ma anche sul piano igienico sanitario per esempio e poi una volta che la fondazione ha dato parere positivo si può entrare nella rete, quindi si viene promossi all'interno del nostro circuito ed è un circuito che ormai ha quasi 20.000 punti Campagna Mica. Tanti, aumenteranno sempre di più, ci auguriamo. Voglio sperare, voglio sperare. Sul sito di Campagna Mica mi hanno colpito soprattutto i tutorial della spesa, in cosa consistono e qual è il loro obiettivo? Dunque noi oltre ovviamente ad essere una rete di produttori in vendita diretta, quindi una rete dove si fa bene la spesa, vogliamo anche essere una rete dove si fa cultura, dove si aiuta il cittadino a fare una spesa il più possibile consapevole, il più possibile mirata, il più possibile intelligente. Quindi con i nostri tutorial cerchiamo di fare informazione, cerchiamo di fare sensibilizzazione e soprattutto cerchiamo di aiutare i cittadini, i consumatori che vengono nel nostro circuito a fare una spesa intelligente e la spesa intelligente è sempre quella che è legata a un prodotto locale, a un prodotto di stagione e a una scelta, diciamo così, delle tipologie merceologiche il più possibile varia. Campagna Amica è l'unione di fattorie, agriturismi, mercati e botteghe, concentriamo l'attenzione soprattutto sulle botteghe, che cosa le caratterizza? Ma questo è un format nuovo, Campagna Amica nasce per portare la campagna in città e quindi la nostra idea è di portare un pezzo di campagna in città tramite i nostri mercati, i nostri farmers market dove appunto ci sono i prodotti, ci sono i produttori e poi c'è la cultura del proprio territorio. Con le botteghe abbiamo fatto una scommessa un po' diversa, cioè stiamo cercando sempre di portare la campagna in città con un format che è più legato a quello del commercio tradizionale, quindi sono degli spazi dove il produttore porta il suo prodotto, non è detto che sia lui stesso a venderlo ed è però uno spazio dove sicuramente la garanzia che si ottiene in una bottega di Campagna Amica con i segni distintivi di Campagna Amica è quello che il prodotto che si vende lì è assolutamente italiano. Abbiamo capito quindi il prodotto è italiano, di qualità, ma anche i prezzi sono alti oppure sui prezzi stiamo facendo una battaglia epocale perché ovviamente noi vogliamo fare gli interessi dei produttori ma anche quelli dei consumatori, quindi Campagna Amica nasce per accorciare la filiera perché se si va dal campo alla tavola con meno passaggi possibili ovviamente ci sono meno costi di intermediazione e quindi c'è la possibilità di remunerare meglio l'agricoltore che ha lavorato e c'è la possibilità di far risparmiare un pochino il consumatore e quindi noi sicuramente ci siamo imposti il criterio della convenienza e la convenienza l'abbiamo legata al concetto della corrispondenza, cioè da noi sicuramente il prodotto acquistato vale il prezzo pagato ed è quel discorso che facevo prima, se si compra un pollo e lo si compra come ruspante, si paga come ruspante, si va a casa e si scopre che effettivamente è ruspante, è evidente che un pollo ruspante non può costare come un pollo d'allevamento, c'è una differenza qualitativa enorme, quindi noi che cosa diciamo? Che da noi è molto conveniente fare la spesa ovviamente per tipologia e qualità di prodotto acquistato. Ho questa curiosità, perché avete sostituito l'espressione chilometro zero con metro zero? Beh, perché noi stiamo sempre di più cercando di accorciare la filiera, di rendere questo cibo, questo prodotto agricolo che vendiamo nei nostri circuiti il più possibile sostenibile e quindi dobbiamo cercare di far fare meno strada possibile al consumatore e allo stesso tempo al prodotto. Siamo quasi in chiusura, allora quali sono i valori di riferimento di Campagna Amica? Ma il valore fondamentale io direi quello di promuovere la cultura della campagna, noi siamo nati per portare la campagna in città, per farla conoscere in tutti i suoi aspetti, quindi il valore fondante del nostro circuito di Campagna Amica è legato al messaggio culturale, noi ci interessa vendere i nostri cibi, ma ci interessa anche che la società intera, i cittadini e i consumatori capiscano l'importanza di alimentarsi in un modo corretto scegliendo i prodotti locali, quindi questo è l'aspetto più importante. Poi legato a questo ci sono tutti gli altri valori legati alla difesa dell'ambiente, al benessere animale, alla salute del consumatore ovviamente e così via. La ringrazio per averci fatto toccare con mano questa agricoltura italiana e grazie a voi per l'attenzione.